Salve a tutti e ben ritrovati. Prosegue l'instabilità e il fresco sulla nostra penisola e anche in Puglia a causa della persistenza di una depressione di origine artica che insiste sul Mediterraneo. Infatti avremo i massimi dell'anticiclone che si sposteranno, rimarranno ben stabili sull'Atlantico e sulle regioni britanniche. Il tutto accompagnato da temperature che rimarranno al di sotto delle medie del periodo anche durante il fine settimana. Queste sono le anomalie a 1.500 metri di quota. Vedete l'area artica avrà via libera di scendere dritta nel cuore del Mediterraneo coinvolgendo anche l'Italia con valori 7-10 gradi più bassi rispetto alla media. Ma vediamo subito quale sarà l'evoluzione meteorologica per questo weekend sulla nostra regione. Partiamo subito da oggi, dopo una mattinata variabile. Nel pomeriggio attenzione alla formazione di piogge e locali temporali che si svilupperanno soprattutto sulla Puglia settentrionale e centrale. Dal Brindisino in giù invece avremo delle condizioni di variabilità con alternanza di nubi, schiarite e qualche pioggia. Temperature che rimarranno stazionarie e ventilazione sostenuta alle quadranti sud-occidentali. Nella giornata di domani, domenica 21 aprile, avremo ancora una giornata piuttosto fresca con temperature che scenderanno ulteriormente, massime non oltre i 13-14 gradi sul Foggiano e Barese e qualche grado in più invece sul Salento ed il Brindisino. Valori che rimarranno ancora sotto le medie con un cielo che si presenterà in prevalenza a poco o parzialmente nuvoloso. Qualche instabilità nel corso delle ore pomeridiane con piovaschi sul Foggiano. Chiudiamo infine con la giornata di lunedì 22 aprile. Apriamo ancora cielo variabile con alternanza di nubi e schiarite e poi nel corso del pomeriggio aumentano nuvolosità a partire dal sud della regione con attenzamenti consistenti sul Salento e Tarantino. Temperature che saranno fredde al primo mattino, mentre durante le ore centrali del giorno registreremo un lieve aumento rispetto alla giornata di domenica. Ventilazione che si disporrà dei quadranti orientali sarà di moderata intensità. Io vi aspetto per tutti gli aggiornamenti della prossima settimana, martedì, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon weekend.